Buona la prima, il Zetterosa rompe il ghiaccio a Budapest superando di slancio la Germania 13 a 4. L'Italia vuole divertirsi e la goleada contro le tedesche lascia il sorriso a tutto il gruppo. Un approccio buono e un crescendo di qualità hanno dilatato il punteggio tra il Zetterosa e le tedesche, fisiche ma macchinose. Garibotti battezza i primi tre tempi della miglior marcatrice azzurra. Palmieri e Marletta realizzano una doppietta a testa, una festa del gold dai colori siciliani. Un successo che porta anche le firme delle esordienti Carrega e Sparano e mette in evidenza la solidità difensiva. L'Italia non subisce gold negli ultimi 19 minuti e tutto questo, tra buon gioco e dati positivi, regala al debuttante Paolo Zizza un soddisfacente esordio europeo. Abbiamo commesso qualche errore ma ci sta un po' l'emozione dell'esordio in un campionato europeo. Abbiamo fatto nel corso della gara delle buone situazioni di gioco, vanno migliorate però sono contento di aver fatto il risultato pieno oggi.